Un cordiale saluto dal TG2000, ben ritrovati. Scegliamo di aprire il nostro giornale questa sera con la storia della donna singalese che abbiamo visto nei giorni scorsi coperta dalle formiche in un ospedale di Napoli. Tutti ci siamo indignati, ma ora quale destino attende questa donna gravemente malata e cosa è possibile fare per aiutarla? Sentiamo Nicola Ferrante. Resta ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco la donna originaria dello Sri Lanka sommersa nei giorni scorsi dalle formiche, ricoverata però in un'altra stanza, chiusa quella incriminata. Storia complicata, la donna a 71 anni era in Italia da sei mesi per far visita alla figlia e dopo un bypass cardiaco le sue condizioni di salute peggiorano e entra in coma vigile. Da lì ricoverò a Telese nel Beneventano in una clinica riabilitativa. Il 22 ottobre la decisione di farla ripartire per lo Sri Lanka per potersi spegnere nel suo paese, ma la donna si sente male e la compagnia aerea nega l'imbarco in quelle condizioni. Il resto è cronaca. Come sta adesso la donna lo spiega all'avvocato di famiglia Ilari Sedu. Non interagisce con l'esterno pur avendo gli occhi aperti e quindi allo Stato non sappiamo effettivamente quanto è stato dannoso questa invasione di formiche che poi le è entrato dentro il tubo per la trachea. Abbiamo cercato e provato a trovare una struttura di lungodegenza, però non ci sono in campagna strutture che abbiano tali caratteristiche per poter far fronte a tutte le patologie che la signora ha. E quindi l'unica opzione che ci rimane è una clinica privata, però che ha dei costi esorbitanti, che sicuramente la figlia che è una lavoratrice, una colf, una badante, non può permettersi assolutamente. Quindi il nostro appello, qualora ci fosse gente benevola, magari affezionata a questa storia, di fare una donazione alla figlia. In un primo momento si era pensato a una colletta per organizzare il rimpatto e assistito con un medico accompagnatore, operazione costosa e comunque non semplice. Perciò adesso la scelta più opportuna è quella che lei resti in Italia, ovviamente senza formiche. Stiamo cercando di avere una sistemazione che sia tecnicamente la migliore per la signora, perché al momento la signora non è trasportabile, né si può trasportare nel suo paese di origine, perché non è in condizioni di poter viaggiare. E nego e dubito soprattutto che la signora possa avere un'assistenza medica così nel suo paese, così come ce l'ha in Italia. Il ventidesimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco avrà come meta il Marocco e si svolgerà dal 30 al 31 marzo 2019. Il Pontefice visiterà le città di Rabatte e Casablanca, 33 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II. Il servizio di Cristiana è caricato. Il secondo viaggio di Papa Francesco nel Nord Africa sarà in Marocco. L'annuncio è arrivato oggi tramite il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke. Il Pontefice visiterà Casablanca e Rabatte il 30 e il 31 marzo 2019. Ad invitarlo Re Mohamed VI, uno dei sovrani di fede islamica più aperto al dialogo e alla modernità, che più volte ha espresso stima per Bergoglio. Ancora pochi i dettagli di un viaggio che porterà il Papa in uno degli stati a maggioranza islamica, dove i cattolici sono appena 27.000, percentuale irrisoria degli oltre 34 milioni di abitanti marocchini. Dopo l'Egitto, nell'aprile del 2017, con la storica visita ad Al-Azhar, centro di riferimento dell'Islam sunnita, per Francesco una nuova occasione di confronto con la variegata galassia musulmana. Una tappa importante del cammino portato avanti dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che insieme al Nunzio Vito Rallo ha sapientemente preparato l'evento, con una serie di incontri svoltisi negli ultimi mesi, proprio nel paese nordafricano, tra imam e teologi cattolici. Un viaggio che ha un memorabile precedente. Giovanni Paolo II, nell'agosto del 1985, concluse il suo terzo viaggio africano nello stadio di Casablanca, imbiancato da 80.000 giovani musulmani. Da Vescovo di Roma parlò del Dio unico, il vivente, il Dio dei figli di Abramo, che chiamava cristiani e musulmani a rendere una comune testimonianza dei loro valori spirituali. Un invito al rispetto e al dialogo, accolto con entusiasmo, dopo secoli di violenze, pregiudizi e guerre sante. Un evento, che forte della riflessione conciliare, indicava un modello di convivenza possibile tra cristianesimo e islamismo, aprendo una stagione felice di relazioni sempre più amichevoli, culminate con l'ingresso di Giovanni Paolo II nella moschea di Damasco, nel maggio del 2001. Di lì a poco, l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle avrebbe disegnato uno scenario completamente nuovo. Nel 2019, anno in cui si celebrano gli 800 anni dell'incontro tra Francesco di Assisi e il sultano, un altro Francesco proverà a rilanciare il dialogo tra le fedi. La conferenza sulla Libia di Palermo, l'Italia, riunisce i protagonisti del dialogo. Ha tweetato il presidente del Consiglio Conte, testimone della stretta di mano tra il generale Haftar e al-Sarraj. Un passo in avanti verso la stabilizzazione del paese, ma le questioni cruciali rimangono ancora aperte. Ci riferisce Antonio Soviero. A vertice concluso, la domanda fondamentale è la conferenza di Palermo sulla Libia è stato un successo o un flop? Indubbiamente l'assenza dei big della terra, Trump, Putin, Merkel, Macron, ha ridotto le aspettative che il premier italiano Giuseppe Conte aveva a luglio scorso dopo aver rincassato l'appoggio del presidente statunitense. E la stretta di mano tra il debole premier libico, al-Sarraj, il potentissimo generale Haftar ricorda quella di Parigi qualche mese fa. Considero questa conferenza un successo, afferma l'inviato ONU in Libia, Gassam Salamé. Ritengo che la conferenza nazionale che pensiamo di fare nelle prime settimane del prossimo anno in Libia sia stata resa più facile da questa conferenza. Portiamo con noi il sentimento di fiducia per una prospettiva di stabilizzazione della Libia. Non vogliamo illuderci, ma riteniamo che siano state poste delle premesse importanti per proseguire in questo cammino. Non la pensa così la Turchia. La delegazione di Ankara ha abbandonato la conferenza delusa per non essere stata invitata al vertice fra gli attori libici, al termine del quale Haftar ha lasciato subito Palermo. Dal suo entourage trapela che il generale avrebbe acconsentito che il premier Sarraj resti in sella fino alle elezioni. Elezioni che si pensano per il prossimo anno, ma è ancora tutto da vedere. La conferenza può essere considerata da alcuni punti di vista un successo tutto sommato perché ha convogliato numerosi attori internazionali e anche numerosi attori interni. C'è stata un'importante stretta di mano tra Sarraj e Haftar. Da questo però poi dovrà partire un piano per la Libia per lavorare per la stabilizzazione del paese. Stabilizzazione che consisterà innanzitutto in una ripresa dell'economia, nella riunione delle due banche centrali, nel disarmo delle milizie, quindi nella messa in sicurezza del paese. Tutto questo poi dovrà condurre a delle elezioni. Nel frattempo, una notizia sicuramente buona, Haftar ha accettato il fatto che Sarraj comunque può rimanere alla guida del governo di accordo nazionale. Quindi un'apertura di un Haftar qui piuttosto bizzoso, ma sicuramente importante per il futuro del paese. Sgomberata a Roma la tendopoli per migranti in transito allestita dai volontari del centro sociale Baobab nei pressi della stazione Tiburtina. Più di 70.000 persone sono state accolte ricevendo cure mediche, cibo ed una sistemazione per la notte che ora invece non hanno più. Beatrice Bossi Immobili guardano da lontano le ruspe distruggere tutto. Lì sotto ci sono le loro tende diventate case e fuori ci sono le forze dell'ordine ad aspettarli per l'identificazione. Molti dei migranti ospiti del presidio umanitario del Baobab Experience infatti sono senza documenti. Si tratta dei dublinanti, migranti che intendono raggiungere altri paesi europei, ma che una volta identificati in Italia non potrebbero più farlo. Lo stabilisce l'accordo di Dublino firmato dall'Italia con l'Unione Europea. Mohamed invece i documenti ce li ha e ce li mostra, permesso di soggiorno compreso. È somalo, ha 18 anni e da un anno viveva alle spalle della stazione Tiburtina di Roma. Stanotte dove andrai a dormire? Stasera non lo so. Tutti i miei barri, tutte le mie roba, tutte le mie cose stanno dentro qua. Hanno preso tutto, ancora non c'è il posto per dormire. Da anni questo presidio accoglie i migranti di transito. Da anni viene sgomberato dalle forze dell'ordine. Oggi è la 22esima volta dicono i volontari. Da qualche settimana il Campidoglio ha cominciato a ricollocare i migranti in altre strutture, ma i posti a disposizione sono finiti troppo presto e le ruspe questa mattina sono arrivate lo stesso. Avevamo chiesto alcune ricollocazioni, 65 ospiti sono stati collocati, sono stati collocati e sono stati ricollocati dal Dipartimento Sociale. A oggi però abbiamo oltre 130 persone che dormiranno a strada. Noi continueremo a esserci per aiutarli. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in serata ha comunicato che gli sgomberi andranno avanti. Ce ne saranno altri 27 nella capitale, ma qui il clima sembra essere diverso. Abbiamo portato un po' da mangiare, mi viene da piangere perché questa gente scusate, cerco di fare di più di quello che uno può. Giornalisti in piazza in tutta Italia a difesa della libertà di stampa. Giù le mani dall'informazione. Questo è il messaggio in risposta agli attacchi del Movimento 5 Stelle dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Sentiamo Maurizio Dischino. Giù le mani dall'informazione. Le ultime esternazioni di esponenti del governo con linguaggio violento e volgare ai danni dei giornalisti ha portato i professionisti dell'informazione a ritrovarsi oggi contemporaneamente nei vinti capoluoghi di regione. A Roma c'erano anche i vertici della categoria dall'Ordine dei giornalisti nazionale del Lazio alla Federazione nazionale della stampa italiana. Tutti in piazza per dire che gli attacchi ai giornalisti, la minaccia di cancellazione dell'Ordine dei giornalisti e l'intenzione di azzerare i fondi per l'editoria sono continui tentativi per sopprimere la libertà di informazione sancita dall'articolo 21 della Costituzione italiana. È un'iniziativa senza precedenti perché per la prima volta 20 piazze italiane si riuniscono per difendere la libertà di informazione e lo fanno non tra giornalisti che sarebbe una manifestazione di corporazione. Lo fanno con decine e decine di associazioni che hanno nel cuore la Costituzione. Anche a Roma è stato ribadito il valore sociale della libertà di informazione che è il sale della democrazia anche quando viene espresso un pensiero critico o una parola contraria. Noi riteniamo che l'informazione come ci ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica sia un grande valore per la democrazia e chi attacca l'informazione chi attacca la stampa chi attacca i giornalisti lo fa perché non ama il pensiero critico vuole cancellare qualsiasi voce critica per affermare una forma di governo basata sulla propaganda. Stavolta a fare notizia non sono stati gli arbitri di calcio di Serie A ma due di serie minori uno a Roma picchiato selvaggiamente al termine della partita l'altro in ciociaria letteralmente abbandonato in campo da una squadra che lo accusava di frasi razziste. Sentiamo Federico Plotti. Questa settimana nel Lazio non si giocherà nessuna partita di calcio non sarà possibile visto che l'AIA ha deciso che non invierà nessun fischietto sui campi della regione. Una presa di posizione netta e precisa voluta dal presidente dell'Associazione Nazionale Arbitri Marcello Nicchi dopo l'ennesimo episodio di violenza che domenica scorsa ha visto vittima un giovane arbitro. Al termine della partita del campionato di promozione tra Virtus Olimpia e Atletico Torrenova sul campo del centro sportivo di San Basilio alla periferia di Roma il direttore di gara Riccardo Bernardini 24 anni della sezione di Ciampino è stato preso a pugni a calci è caduto a terra ha sbattuto la testa ed è finito in ospedale. Gli autori dell'aggressione sono due tifosi della Virtus Olimpia che avrebbero aggredito violentemente l'arbitro mentre era negli spogliatoi perché durante la partita aveva espulso due giocatori della squadra di casa. Cose che succedono e purtroppo non dirado nel calcio direttantistico. Le cronache sono piene di episodi simili direttori di gara picchiati colpiti per protesta da calciatori e tifosi. L'anno scorso in 300 sono finiti in ospedale. L'associazione italiana Arbitri non accetta e non accetterà più di mandare al massacro centinaia di ragazzi ogni anno senza che qualcuno si preoccupi di dire basta a questo fenomeno. Studieremo provvedimenti ancora più drastici per fermare questa deriva arrivando fino all'esclusione dei club qualora dovesse emergere delle loro responsabilità ha detto il neopresidente della FIGC Gabriele Gravina stessa linea per il ministro dell'interno Matteo Salvini ma c'è un'altra protesta contro un arbitro che sta invece raccogliendo favori anche dal mondo del calcio. Domenica scorsa nel Frusinate durante la partita di terza categoria tra Real Vico nel Lazio e Cosmos Strangola Galli il direttore di gara avrebbe insultato con Tony Razzisti un calciatore senegalese del Real la sua squadra in segno di solidarietà è uscita dal campo facendo sospendere la partita Il telegiornale termina qui grazie per averci seguito ora c'è TGTG con Donatello Vaccarelli che commenterà le notizie del giorno con il giornalista e scrittore Federico Rampini buona visione un sereno proseguimento di serata arrivederci